Ciao a tutti, sono Spano Vangelo del presidio di Padua Giornalcella. Come vedete siamo in questa situazione e stiamo manifestando contro i suicidi di Stato. Questo è il momento di unione fra i presidi del Veneto e la gente comune che è qua con noi a parlare o a manifestare contro questa politica sbagliata. Io sono contento di avervi tutti quanti qua, volevo parlare poco perché quello che mi interessa di più a me è vedere la quantità di persone che scendono in piazza. È giusto che le persone possano dare voce alla loro propria dignità e di fermare questo scempio di questo stilicidio umano. Colpevoli sono i nostri politici, basta con la politica.